Tutto era incominciato nel gennaio 1943, una storia che riguardava l'America e la Sicilia. Sarima degli americani, andiamo! Andiamo! Che bisogno c'è di mettere mano alle armi quando siete in mezzo all'amici? Se tu vuoi parlare con mio padre, gli chiedi la mia mano. È fatta. Dove abita? In Sicilia. In Sicilia in questo momento c'è soltanto la Seconda Guerra Mondiale in corso. Are you sure you guys? What the dangerous? Non è come sembra, non è come sembra. Non c'è nulla tra noi tre. Come avete detto che mi chiamate voi? Giammarresi, Arturo Giammarresi, Don Carò. Bravo. Grazie. A chi sono? Pensecci tu. Cari amici, è una giornata speciale. Perché grazie agli amici americani, a crisi a fullo è arrivata la democrazia. Non lo capisci quello che sta succedendo? Cosa sta succedendo? Anch'io sono in guerra per amore. E non lo capisci quello che sia stato. Cosa sta succedendo?